e lo convinse a un punto tale che si appassionò la faccenda e nella primavera dell'anno successivo ci presentammo all'opera con l'idea di toglierlo dalla dimenticanza, erano ormai andati in il pensiomero delle persone di anno in anno aumenta, vuol dire che forse ci siamo riusciti l'ama di luce percorre tutta l'enorme cufola fino ad arrivare sul pavimento ho detto buongiorno e non buonasera nonostante che sia le 12.30 passate perché per quanto riguarda il sole e qui comanda il sole è ancora mattina, cioè il sole non è arrivato nel punto più alto del suo cammino giornaliero 90 metri, quindi quando al solstizio me l'aveva segnalata aspettando una mia rete anzi pepilla intera ma non lunga come questa, non alta come questa, non adatta a risolvere i problemi che questa, di questo non erano sicuri, pensate all'uomo mediomale che studiava le opere degli antichi e si accorge che il valore di quest'angolo detto dal grande Solomeo in mente si ricorda il ruolo di astronomo, di matematico, di geografo, di filosofo e anche di geografo perché Toscanelli fu anche un geografo prese tale familiarità con un seco che gli imparò facendo il piano a lui ma chi fanno? I Brunelleschi o la statica? e allora il Brunelleschi non è che inventa da niente questa meravigliosa ruolo ci sono dei calcoli e noi sappiamo che lì fu sepolto anche Toscanelli ma non c'è più niente, c'è solo rimasto davanti lasciateci da Toscanelli e lì si legge, credetemi, scipano Toscanelli lo abbiamo in biblioteca nazionale, abbiamo poche tavole portano la sua firma e guardate le comete che hanno una coda orientata nonostante questo è stato scoperto qualche anno dopo ma grazie alle misure e alle carte lasciateci da Toscanelli il Reggio Montano ci dice siamo nella fine del Cinquecento abbastanza lungo a muoverlo allora ecco notate la turbolenza quindi voi capite che non è possibile misurare un quarto di millimetri neanche con questo smisurato strumento chi ha l'orologio di un'occhiata dovrebbe caotica e impossibile la vita di tutti i giorni Toscanelli dove l'immagine è cadde nel 1510 ma riprendiamo il nostro percorso ovvero sconclusionale che pure a pieno fa avanti per sé un economico cosiddetto simeniano che poi diventerà osservatorio meteorologico noi lo conosciamo come osservatorio meteorologico al suo appuntamento cioè assolcare la linea meridiana quando l'immagine del sole si troverà esattamente sulla linea meridiana quello sarà la turbolenza di cui è affetta l'immagine quindi voi capite che non è possibile misurare un quarto di millimetro neanche con questo smisurato strumento infatti 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 Grazie.